Quasi tutto pronto per la festa del Bene Comune, come è nata questa idea e quali sono gli obiettivi? Sì, quasi tutto pronto perché insomma 24, 25 e 26 maggio ci sarà questa prima festa del Bene Comune a Matera e l'idea parte un po' da lontano e stavamo pensando, è nata veramente come da delle chiacchierette spontanee tra cittadini, amici, attivi in tutti gli ambiti della comunità materana, quindi nel sociale e anche ambito imprenditoriale. Insomma l'idea è quella proprio di raccontare tutto il bello, tutto il positivo che si fa a Matera in tutti gli ambiti, quindi sociale, lavorativo, nelle tante attività di volontariato che ci sono nel coinvolgimento attivo dei cittadini, dei ragazzi e per la prima volta appunto provare a raccontare tutte queste esperienze e farlo insieme. Purtroppo c'è questa un po' dispersione, siamo tutti quanti abituati a lavorare in maniera molto individuale. Per la prima volta ci stiamo provando, stiamo provando a organizzare questo momento di festa cercando di ritrovarci tutti insieme e metterci il nostro, quindi ognuno sta diventando un tassello, questa tessera di questo mosaico che stiamo formando. Una tre giorni con un ricchissimo programma di eventi, quali sono quelli principali? Allora apriremo il 24 pomeriggio con un momento di festa e un talk proprio sul bene comune, verranno anche degli esperti da fuori Matera e poi la mattina del sabato invece ci saranno laboratori e eventi in tutta la città perché lo scopo è proprio quello di attivare tutta la città di Matera facendo quello che già facciamo solitamente ma anche con attività di vario tipo rivolte proprio a tutti. Invece appunto il pomeriggio del sabato ci saranno due momenti culturali, uno una presentazione di un libro e successivamente la presentazione del secondo numero del giornale scatenati dei detenuti di Matera. La sera ci sarà uno spettacolo teatrale e invece il giorno successivo avremo un momento con Don Antonio Loffredo che ci parlerà della sua esperienza di Napoli, un'esperienza molto forte nelle periferie di Napoli e alla fine della domenica vorremmo trovarci proprio per pensare come continuare per questo percorso perché questi sono tre giorni ma saranno solo l'apertura di un percorso che vuole andare avanti e quindi solo una puntata a zero insomma per iniziare insieme. Un lavoro organizzativo importante, parola chiave, sinergia. Sì, infatti. L'organizzazione è iniziata circa a metà marzo ed è stato proprio un elemento interessante di tutto questo processo perché ci ha consentito durante tutta l'organizzazione che è già avvenuta di conoscere tutte le realtà che si sono viste sul territorio di quanto anzi sia interessante e fecondo questo territorio e quindi proprio parte integrante della festa si può dire sia l'organizzazione della festa stessa. Naturalmente le porte non sono chiuse per cui chiunque si senta incuriosito, invogliato e voglia partecipare a questo processo organizzativo basta contattarci tramite le nostre pagine social sia su Facebook che su Instagram. E all'interno del programma della festa del bene comune non poteva mancare il cibo e quindi un momento di convivialità. In che cosa consisteranno gli eventi nel programma? Allora ci saranno due eventi di convivialità, uno il venerdì sera e uno la domenica mattina e proprio per cercare di portare avanti il concetto di bene comune anche nel momento della convivialità abbiamo deciso di programmare delle serate con cibi a chilometro zero e del commercio che è solidale. In questo modo cerchiamo di sostenere anche il nostro territorio e non solo, anche l'ambiente perché durante tutti gli eventi saranno utilizzate solo e soltanto delle stoviglie compostabili e nessun tipo di bottiglia di plastica ma tutto sarà in vetro. Al giorno d'oggi perché è importante parlare di bene comune? In un momento storico come quello che stiamo vivendo in cui sentiamo sempre più parlare del negativo e dove si accentua il negativo, la critica, parlare di bene comune per noi è fondamentale perché riporta al centro il positivo che c'è sotteso nella realtà sociale e che deve venire fuori e che può raccontare qualcosa che va al di là del buio che tante volte ci fa vedere soltanto la notte attorno a noi.